Ovviamente con questa nuova condivisione familiare che hanno rilasciato su Steam è possibile creare una famiglia e condividere i giochi di Steam con altre persone. Quindi in questo caso andiamo direttamente su Steam qua in alto a sinistra e poi su impostazioni. Una volta fatto scendi fino a giù fino a trovare famiglia. Crea o unisci, diamo una condivisione familiare di Steam. In questo caso crea condivisione familiare oppure unisciti a una condivisione familiare. Quindi in questo caso puoi cercare una famiglia che ha creato un tuo amico o un tuo familiare e puoi entrare in quella condivisione. Quindi puoi entrare in quella famiglia e cominciare a usare i loro giochi. Oppure puoi creare una condivisione familiare. Inserisci il nome della famiglia. Ovviamente per fare un esempio scrivo solo family e faccio crea. Una volta fatto questo sono io, adulto, invita un membro. In questo caso chi voglio invitare? Invito quest'altro membro qua. Ovviamente è un account che ho aggiunto direttamente su questo computer. Quindi in questo caso se clicco qua sopra e faccio cambio account ci sono due account di Steam qua sopra. Quindi in questo caso tu puoi inserire l'account di un amico o di un tuo familiare sul tuo computer. Così facendo restate anche uniti. Questo qua utenti suggeriti e metto questo qua. Invita come adulto oppure invita come bambino. Ovviamente è un adulto faccio invito come adulto e faccio invito. Ora cosa succede? Ho mandato l'invito sulla sua email. Ora quello che deve fare è accettare l'invito. Quindi come funziona? Vado direttamente sull'email dell'amico che ha ricevuto ed eccolo qua. Tony ti ha invitato a unirti alla condivisione familiare di Steam Family come adulto. Visualizzo così l'invito così mi porta su un'altra pagina di Steam e devo accedere con le mie credenziali dell'altro account. Ed eccolo qua. Clicco con la sopra. E' stato invitato a far parte di una condivisione familiare di Steam se non conosci e non ti fidi delle persone. Ovviamente mi raccomando vedete chi vi sta invitando. Tony ti ha invitato a unirti alla sua condivisione familiare come adulto. Io accetto. Faccio confermo. Ovviamente qua mi dice che è impossibile accettare l'invito perché questo account che ho creato, il secondo, è un account turco. Tanto per fare una cosa riguardo ai prezzi. Quindi con pochi soldi ti compravi molti giochi. Quindi quello che devi fare è accettare l'invito e ti uscirà qua sopra. Che adesso l'altro account è nella famiglia. E quindi adesso questo account qua può usare i tuoi giochi. Mi raccomando non tutti i giochi possono essere utilizzati tipo per esempio Call of Duty, il gioco che hai comprato, oppure Rust, altri giochi. Alcuni non possono essere utilizzati, non possono essere condivisi. Quindi per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video. In alto a destra c'è un'altra guida proprio su come condividere tutti i giochi di Steam e creare così una condivisione familiare con altri membri. Quindi ti consiglio di guardare anche l'altra guida. E quindi grazie a tutti per questa visione. E noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.